mi hai chiesto come risolvere il fatto di sentirsi fortunati yes cioè il fatto di appunto non dovresti sentirti fortunato ma piuttosto dovrebbe essere il contrario dobbiamo girare i tavoli cioè dobbiamo girare i tavoli un termine inglese mal tradotto cioè devono essere i clienti a sentirsi fortunati perché hanno a che fare con te quindi ovviamente devi elevare la tua immagine il tuo status che può cominciare con cose molto banali prima di tutto dire e comunicare pubblicamente che tu ti rivolgi solo a una clientela alto spendente che non è possibile chiedere sconti queste due cose già possono fare la differenza il chiedere il doppio il triplo semplicemente avere le palle di chiederlo quindi un'obiezione potrebbe essere chi sono io per chiedere questa roba ma tu quando chiedi il prezzo che fai adesso non ti sei chiesto chi sono io per chiederlo è lo stesso concetto cioè chi è uno psicologo e chiede 80 euro all'ora è insensato non ha senso non avete il permesso di farlo non mi dovete rompere i coglioni chi ti ha dato il permesso di chiedere 80 euro? e lo chiedono tutti e quindi? e? cioè ok? quindi non c'è una logica noi abbiamo dei feedback proprio solo di gente che faceva anche le analisi del sangue a pagamento se le fa pagare di più perché c'è l'urgenza mettere inserire l'urgenza per esempio ci sono x modi di aumentare una parcella ma il presentare un preventivo in un certo modo non sembrare degli scappati di casa il dire noi siamo fortemente specializzati in questo topic A ci dedichiamo solo a quello e questo è il motivo per cui ci posizioniamo volontariamente in una fascia alta del mercato e costiamo x è già una frase a volte sufficiente per scremare e selezionare la clientela ok? ci sono tante persone che vendono ai poveri è molto difficile sono dei pessimi clienti non voglio dire che non devono essere aiutati anzi tutti vendono a loro quindi voglio dire non c'è problema in questo posso parlare di alcune cose da fare e da non fare per non sembrare degli scappati di casa e quindi per cominciare a imporre delle cose più alte innanzitutto dovete non essere raggiungibili dall'esterno cioè nessuna persona realmente occupata realmente brava realmente in vista è raggiungibile da tutti la dovete mettere via le persone c'è questo diavolo di moda su Instagram di farsi la foto mentre si è al telefono perché le persone hanno questa percezione che facendo vedere di essere al telefono al cellulare oltretutto assumi potere no lo perdi perché le persone realmente in vista importanti hanno assistenti che sono al cellulare loro non parlano con gli altri ok? essere immediatamente disponibili su WhatsApp dare il proprio numero sulla business card forse è l'errore che c'è vuol dire che non vale niente se vuoi telegrafare quanto tu sia poco importante dai il modo a tutti di contattarti nessuna persona importante o brava opera in questo modo non è in senso provate a pensare è una cosa logica quando la dici un VIP non opera con queste con queste premesse con queste regole tu non puoi prendere domani e chiamare Bill Gates perché non è possibile come faccio a parlare con me? non puoi come faccio a raggiungere Big Luca? ora non ho gli stessi soldi di Bill Gates chiariamoci non puoi posso essere un mio amico ai WhatsApp questo è un altro discorso ma non c'è modo devi essere filtrato perché c'è un entourage non puoi parlare con il guru sopra la montagna immediatamente le persone importanti altamente pagate che hanno una vita che hanno delle responsabilità non sono a chatare su Facebook non ci sono non lo fanno il mio profilo Instagram il mio profilo Facebook dell'azienda sono in mano ai nostri manager social media non sono io ragazzi continuate mi dicono che ancora pensate che sia in mano io non lo vedo quella roba lì ho altro da fare quindi se volete telegrafare quanto non siete importanti distribuite il vostro numero a quante più persone persone che hanno il loro numero di telefono nelle email ora ci sono ruoli dove chiaramente non devi mettere se scrivi i lavori come customer service di un'azienda chiaramente ci sono i dati aziendali che magari sono anche i tuoi nel senso che però parliamo di altro qui quindi come faccio a elevare la mia parcella se voglio dare il mio numero a tutti voglio fare i prezzi come gli altri non voglio essere in vista non voglio avere l'entourage non potete cioè bisogna attuare delle scelte avere una procedura di inbound quindi avere un assistente trainizzata e non sembrare non rispondere con un cane che abbaia nel background e quando il cliente ti fa una domanda aspetta che chiedo a mia cugina non sta bene dai che sembrate degli scappati di caccia ci sono anche dei comportamenti molto banali che se vengono eliminati già non è così difficile aumentare il proprio status e sembrare più bravi più professionali più in vista più famosi di altri visto che insomma la massa è abbastanza ignorante che si vengono